Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli del 30 novembre 2019 sui leader italiani, sul consenso che hanno i capi politici e non solo. Vediamo che in testa c'è Giuseppe Conte con il 47%. Al secondo posto sorpasso del Giorgio Meloni che si attesta al 40%. Al terzo posto Matteo Salvini con il 37%. Poi segue Dario Franceschini con il 27%. Poi segue Teresa Bellanova con il 23%. Roberto Speranza anche lui con il 23%. Nicola Zingaretti con il 20%. Luigi Di Maio con il 18%. Silvio Berlusconi con il 17%. E Matteo Renzi con il 10%. In questa classifica si può vedere il balzo di Giorgia Meloni che arriva al secondo posto. Si nota la discesa sia di Giuseppe Conte sia di Matteo Salvini. Poi possiamo notare anche la discesa di Luigi Di Maio e la discesa anche di Matteo Renzi che con gli ultimi guai giudiziari è passato dal 16% al 10% ed è l'ultimo politico della lista. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi invito ad iscrivervi al canale Teleitalia dove trovate nella community tanti sondaggi a cui potete partecipare e commentare. Siamo anche su Facebook Teleitalia Notizie dove trovate tutti gli stessi video che ci sono su YouTube. Li potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate in internet e fuori da internet. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro una buona giornata. Arrivederci.